Lo sai chi è la cagnolina più dolce del mondo? Oh oh! Cioccolata! Che barba! Che noia! Oh! Ecco dove era finita! Sidney! L'ho trovata! Ehi Leo! Cioccolata! Ciao! Ciao! Cioccolata! Ma perché sei ancora a letto? Con un tempo così brutto non ho voglia di fare proprio niente! Beh allora facciamo qualcosa di utile in casa! Guarda che cosa ha Leo nel suo cassone! Ma che cosa sono queste frilibatezze? Sono verdure! Su! Andiamo in cucina a scaricare! Andiamo! Ehi! Aspettatemi! Una carota Una patata Un pomodoro E un cavolo broccolo Oh oh! Come sono belle! Non solo sono belle ma fanno anche molto bene! L'unica che si può mangiare cruda è la carota! Le astre si devono bollire! Sì! Sì! Però prima bisogna lavare tutto! Toh! Prova! Wow! Come è struccante! Leo! Leo! Prova anche tu! Mmm! È molto buona! Miam! 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 E poi lavo le altre verdure! Sidney! Che cosa prepari di buono? Adesso vi preparo una bella zuppa! Leo! Leo! Per favore! Mi porti una pentola! Sì! Certo! Oh! Leo! Grazie! Mettiamo l'acqua nella pentola Adesso dobbiamo aspettare un pochettino Sidney! E che cosa devo fare nel frattempo? Anche io voglio dare una mano! Tu puoi portarmi i piatti! Va bene! Ecco i piatti! Uff! Uff! Eccoli qua! Grazie! Mi sembra che la zuppa sia già pronta Mmm! Che profumino! È pronta! È pronta! Cioccolata, questa è per te! Leo, questa è la tua porzione Buon appetito! Buon appetito! Mmm! Che delizia! Buonissima! Mmm! Che buona questa zuppa, Sidney! Grazie! È proprio buonissima! Mmm! 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 Sono proprio una brava cuoca! Mmm! 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 La zuppa mi ha riempito di energie! Sì! Mi è venuta proprio voglia di giocare! Mi fa proprio piacere che vi sentite pieni di energie! Andiamo a giocare! E a te! Piace la zuppa di verdure? Ciao! 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 Woof! Woof!